Naste che riuscite a coniugare tutti questi impegni Ricominciamo, ultima rotazione Viola Pirazzini Trave Tiè, salto avanti d'entrata Ha fatto anche bene, è bella alta l'arrivo Anjambe cambio, Anjambe sul posto e Flick Corbut, brava Parte a terra, contatto con la Trave Ruota senza mani, bravissima Anjambe cambio ad Anello Un pochino scarso Anello deve essere, il piede deve essere sopra La corona della testa, altrimenti la giuria potrebbe declassare l'elemento Poi ha fatto un giro in passe, serie acrobatica Flick Flick Salto, bravissima Sta facendo una gran bella Trave Questo buono invece, Anjambe ad Anello sul posto, ottimo È un elemento di valore D, ora salto in posizione trasversale Un pochino bassino ma buono, senza sbilanciamenti Si prepara per l'uscita, infatti va a cercare proprio la fine della Trave Ecco la rondata e doppio raccolto Che si inquadra un po' Un po'